Ora ti faccio vedere una cosa, il segno distintivo dove abita un boss, eccolo là, Gesù vedi? Ma non possiamo dire che è un camorrista? Perché? E non ti nemmeno la sentenza in mano. Napoli ed intorni è sì la camorra, ma anche tante piccole e grandi illegalità dettate dalla fame. Purtroppo non c'è lavoro, io ho bambini, ho figli. E dove ne compri queste segrette? Al mercato. Quanto riesci a fare al giorno? Eh, 30, 40, 50, come capita? Sul rione Traiana, da vedere adesso, ma la polizia non esiste, lo stato non esiste, i bambini a 16 anni stanno per la strada, non ne fanno a pigliare per portare a scuola. Per entrare nel famoso rione De Gasperi, già roccaforte del clan Samo, chiediamo aiuto ad una donna del quartiere. Ci fa entrare lei? Sì, vai, vieni a redammare con me in tuo rione. Dando il segnale che possiamo entrare. Guarda, guarda, fai fare la telecamera. Questo è il bagno. Questo è il bagno, fatto il reclamo. Paghiamo regolarmente l'affitto, tutte le spese. Quanto paga di affitto? 60 euro, ogni mese. Abbiamo fatto 5 reclami. Ma perché dicono che qui è pericoloso entrarci, la polizia e i carabinieri non vengono mai? Queste non sono cose che ci interessano, sinceramente. C'erano persone malandate, vi facevano entrare. Non vi facevano entrare, erano come dicevate voi. Non vi facevano entrare. Ci sono le sentinelle? No. Avete visto qualcosa? C'è da vedere qualcosa? E a Napoli Nord la situazione non cambia. A fratta maggiore basta poco per diventare un criminale. Se vuoi fare la pace prepara la guerra. E tu sei in guerra? Io sempre in guerra. Contro chi? Di tutti. Tu sei ai domiciliari qua? Sì, ai domiciliari. E per che cosa? Per rapina. Una rapina? No, due. Ma tu non hai mai pensato di lavorare? Io? Non c'è lavoro. Come lavoro? Io non ho bambini. La mia fidanzata. Come lavoro? Non c'è lavoro. Perciò vado sempre a rubare. Qui come vedete ci sono i cani. Cani dappertutto e la notte vengono lasciati liberi per monitorare il quartiere, come dicono loro. In questo quartiere popolare può sembrare quasi ironico questo cartello che ci ricorda che alcuni lavori di ristrutturazione sono stati fatti grazie ai soldi dell'Unione Europea. Quando morirò andrò in paradiso perché l'inferno lo sto già vivendo. Giovanna ha 36 anni, vive da sola con la mamma cieca e un figlio malato di tumore al cervello. Il suo marito dov'è? Mio marito è in carcere. Da quanti anni? Un anno e nove. Da quando uscirà? Speriamo bene che il giudice magari me lo fa venire a casa.